Per questa iniziativa io donerò il libro Oltretorrente di Pino Cacucci, perché è un libro che mi ha molto appassionato, che parla di una vicenda della mia città, di Parma, e quindi lo consiglio a tutti perché è un libro veramente interessante. Partecipa a Io Leggo Perché dal 22 al 30 ottobre 2016. Grazie a tutti.